Sono veramente contento che si riprendano queste iniziative dal BESTA perché noi siamo un riferimento nazionale e internazionale e questa è una giornata importante per dimostrarlo, quindi la mia partecipazione è anche un salute, un sostegno, un'iniziativa lodevole. Queste cose qua sono importantissime per i pazienti, per tutte le persone che possono ascoltarci, sono un sostegno continuo e questo è il ruolo dell'istituto che presiede.